Oggi ho deciso di svuotare il cassetto del frigo che avevo riempito lunedì, convinta di iniziare la dieta. Ma chi è che ha detto che uno, per mangiare leggero, deve per forza soffrire? Ma anche no! Aglio, limone, sale, pepe, olio e prezzemolo. Ci spalmate le verdure grigliate e mettete tutto dentro lo stampo da plum cake. Eh sì, secondo me due zucchine ci stavano proprio bene. Chiudete tutto in frigo a riposare e poi lo spalmate con il condimento avanzato, lo tagliate a fette e ve lo magnate. Ah, dimenticavo! Allacciate il grembiole e provatelo anche voi.